Ernesto Russo si apre dopo l'uscita controversa da Uomini e Donne. Nella tumultuosa e controversa puntata del 20 maggio di Uomini e Donne, gli spettatori hanno assistito all'inaspettata cacciata di Ernesto Russo, segnando così la fine di un capitolo burrascoso nel percorso del Cavaliere nel programma. Le ragioni dietro questa decisione drastica sono state subito chiare. Russo, accusato di non rispettare le regole del programma, è stato punito dopo la diffusione di un'immagine compromettente che lo ritraeva con una donna al di fuori degli studi del dating show di Canale 5. Ma adesso, dopo aver salutato Uomini e Donne, Ernesto Russo si è finalmente aperto sulle pagine di Lollo Magazine, gettando luce sui retroscena e le circostanze che hanno portato alla sua espulsione. In un'intervista senza peli sulla lingua, Russo ha affrontato le accuse con una franchezza disarmante, svelando la verità dietro gli eventi. Durante le ultime registrazioni ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce, ha dichiarato Russo, gettando subito luce sul suo atteggiamento. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c'entrano niente. Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conoscono con cui non c'è assolutamente niente. La segnalazione è nulla. Russo, senza mezzi termini, ha anche rifiutato categoricamente di chiedere scuse per il suo comportamento, e ha invece puntato il dito accusatore verso Barbara, una dama del programma. Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno, ha affermato con fermezza. Il giorno prima ha detto che aveva delle foto di me con una ragazza. Secondo Russo, sarebbe stata proprio Barbara a fare la segnalazione alla trasmissione, alimentando così il fuoco delle controversie. Con queste rivelazioni esplosive, Ernesto Russo ha dato voce alla sua versione dei fatti, lasciando che il pubblico giudichi da sé. Resta da vedere se il suo nome tornerà a risuonare nei corridoi di uomini e donne, ma per ora, il cavaliere sembra aver gettato luce su una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico del programma. Queste parole riflettono un uomo che, nonostante le circostanze avverse, cerca di trarre insegnamenti positivi da ogni situazione. Ernesto Russo, con la sua sincerità spietata, ha dimostrato di essere un individuo che non teme di affrontare le conseguenze delle sue azioni, anche se ciò significa esporre la propria vulnerabilità di fronte a milioni di spettatori. Mentre il futuro di Russo nel mondo di uomini e donne rimane incerto, ciò che è certo è che la sua uscita dal programma non ha lasciato nessuno indifferente. Le sue parole hanno suscitato discussioni accese e riflessioni profonde sulla natura umana e sulle dinamiche dei rapporti amorosi. Con il passare del tempo, potremo vedere se Ernesto Russo riuscirà a trovare la pace interiore e a costruire un futuro più sereno, lontano dai riflettori della televisione. Ma una cosa è certa, la sua storia resterà impressa nella memoria degli spettatori di Uomini e Donne per molto tempo a venire. Il segreto svelato, perché Maria De Filippi ha espulso un concorrente di Uomini e Donne? Nuove rivelazioni e colpi di scena hanno scosso il celebre dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Recentemente, il programma ha visto un susseguirsi di eventi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Tra segnalazioni, scontri e decisioni definitive, la puntata di oggi, lunedì 20 maggio, promette di essere particolarmente intensa. Uno degli episodi più chiacchierati è stato quello che ha coinvolto Mario Cusitore. Le sue frequentazioni fuori dallo show non sono passate inosservate, scatenando un'ondata di critiche. Ida Platano, una delle protagoniste del programma, ha reagito con decisione, allontanandolo senza esitazioni e abbandonando lo studio senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori. Questo evento ha sollevato molte domande tra il pubblico, che si chiede perché alcuni partecipanti continuino a frequentare il programma se poi vedono altre persone al di fuori di esso. Ma il vero colpo di scena arriva con la vicenda di Ernesto Rosso. Dopo aver corteggiato sia Ida che Barbara, e nonostante avesse iniziato una promettente frequentazione con Elisa Tomasin, Ernesto è stato travolto da segnalazioni che indicavano sue frequentazioni esterne al programma. Maria De Filippi, solitamente pacata, ha perso la calma di fronte alle rivelazioni. Durante la puntata, è emerso che Ernesto avrebbe una donna ad aspettarlo fuori dal programma. Di fronte a queste evidenze, Maria non ha avuto altra scelta che cacciarlo dal programma, segnando così la fine del percorso di Ernesto ad uomini e donne. La puntata di oggi non è stata priva di ulteriori sorprese. Dopo il caso Ernesto, l'attenzione si è spostata su Daniele Paudice, un altro tronista in difficoltà decisionale. Daniele ha ammesso di essere indeciso tra Marika e Gaia, avendo provato forti emozioni con entrambe. Alla fine, ha scelto Gaia, lasciando Marika visibilmente delusa. La reazione della corteggiatrice siciliana è stata immediata, su TikTok ha espresso tutto il suo dolore e la sua confusione, scrivendo, qualcuno mi spieghi perché una frequentazione di nemmeno qualche settimana fa più male della mia ex-relazione di anni e anni. In sintesi, Uomini e Donne continua a regalare momenti di grande intensità e a suscitare discussioni sia dentro che fuori dallo studio. Con le sue dinamiche intricate e i continui colpi di scena, il programma si conferma come uno dei più seguiti e amati dal pubblico italiano. Maria De Filippi, con la sua presenza carismatica e la sua capacità di gestire situazioni complesse, rimane il pilastro insostituibile dello show. In conclusione, Uomini e Donne continua a essere una fucina di emozioni e sorprese. Ogni puntata aggiunge nuovi tasselli a un mosaico in continua evoluzione, dove storie d'amore, amicizie e tradimenti si intrecciano creando un racconto avvincente e appassionante. Maria De Filippi, con la sua esperienza e la sua sensibilità, rimane la figura centrale che guida i partecipanti in questo complesso viaggio alla ricerca dell'amore vero. E i telespettatori, affascinati e coinvolti, non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata.